Maggio è stato un mese molto importante per la Cina perché le regolamentazioni, gli stimoli lanciati dal governo per supportare il paese sono stati veramente tanto intensi, soprattutto nel settore immobiliare dove fa ancora fatica a stabilizzarsi e che costituisce uno dei problemi, ostacoli più importanti da risolvere affinché l'economia cinese possa realmente ripartire. Perché ricordiamo che questo settore rappresenta il 20, tra il 20 e il 30% del pil cinese e che quasi il 70% della ricchezza delle famiglie cinesi sono nel mattone. Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video, io sono Song e sul mio canale tratto temi di economia e tecnologie incentrato sulla Cina. Oggi vi voglio parlare di queste 4 importantissime misure introdotte a maggio dal governo e dalla banca centrale cinese, più una quinta che in realtà era già in programma. Tutto diretto a stabilizzare il settore immobiliare che ora è considerato il tallone da kill dell'economia cinese. È uno dei fattori che lo sta frenando di più senza considerare le tensioni geopolitiche. I dati macroeconomici rilasciati nel mese di maggio per il mese di aprile sono andati abbastanza bene. Si intravede questa ripresa lenta però almeno c'è il CPI sia mese su mese che anno su anno hanno fatto un più 0,1% e più 0,3% rispettivamente. Il PMI sopra i 50 e il PPI ancora in territorio negativo però con questo trend un po' crescente. Vendita al dettaglio che ha fatto un più 2,3% ma in questo caso con un trend a ribasso. Gli investimenti fissi vanno bene con un più 4,2% e produzione industriale con un più 6,74% anno su anno. Invece export ed import hanno fatto rispettivamente 5,1% e 12,2% anno su anno. L'unico settore che non è andato bene secondo voi qual è stato? Ovviamente il settore dell'immobiliare dove gli investimenti hanno fatto un meno 9,5% da inizio anno. E sì finché questo settore non si stabilizza del tutto il consumo interno farà fatica a crescere così come la fiducia della popolazione cinese che è tuttora ancora basso. Per questo nel mese di maggio il governo insieme alla banca centrale hanno emesso queste manovre e stimoli che la media cinese lo hanno definito le quattro frecce per dare un supporto significativo ma nello stesso tempo anche un segnale molto forte e deciso al settore immobiliare. E quali sono queste quattro frecce? La prima è l'abbassamento dell'anticipo che si paga per l'acquisto di una casa. Prima di ora per una prima casa si pagava l'anticipo minimo del 20% praticamente come qui in Italia mentre per la seconda casa è richiesto il 30%. Se invece parliamo delle città tier 1 come Shanghai e Pechino ecco in questo caso l'anticipo richiesto per la prima casa è del 30% invece quello per la seconda casa del 40%. Ora invece a partire dal 17 maggio quest'anticipo per tutte le case sono state ridotte fino al 15% se si tratti della prima casa e del 25% per la seconda casa. È quasi dimezzato soprattutto se le confrontiamo con quello che si doveva pagare nelle città tier 1. La seconda freccia riguarda l'abbassamento del tasso di interesse per il mutuo con fondo casa. Cosa significa questo? Mi spiego ogni lavoratore cinese dipendente deve pagare la cosiddetta previdenza sociale che in Cina si chiama Uxie I Ching cioè tradotto letteralmente 5 assicurazioni e un fondo. Le assicurazioni sono quelle della pensione, della malattia, della maternità, dell'infortunio e della disoccupazione e poi c'è questo fondo su cui ogni mese viene versato una certa somma una parte dal datore di lavoro mentre l'altra parte dal lavoratore e sarebbe praticamente un fondo casa che puoi utilizzare qualora decidessi di comprare la tua prima casa o ti servono soldi per ristrutturarlo. Inoltre se fai il mutuo tramite questo fondo hai tassi molto agevolati. Oggi per esempio il tasso LPR a 5 anni che è il tasso di riferimento per i mutui è di 3,95% quindi se vai oggi in una banca cinese e chiedi il mutuo quello è più o meno il tasso che ottieni anche se in realtà sarebbe un pochino più basso perché la banca può applicarti uno sconto. Se invece decidi di farlo tramite questo fondo casa il nuovo tasso di interesse che ottieni per l'acquisto della prima casa è del 2,35% se il prestito è inferiore ai 5 anni e nel caso in cui il prestito supera i 5 anni parliamo di un tasso del 2,85%. Se si tratta della seconda casa allora i tassi sono un po' più alti. Parliamo del 2,775% e 3,325%. Vedete che bella differenza? Cioè è questo il tasso di mutuo fatto tramite il fondo a casa che hanno abbassato. Ovviamente c'è un importo massimo che puoi chiedere con questo tasso agevolato mi pare se aggiri sui 1 milione di yuan cioè 130 mila euro. Qualora la casa che vuoi comprare costasse di più allora la parte restante lo dovrai chiedere alla banca con il tasso LPR a 5 anni. La terza freccia riguarda proprio questo LPR a 5 anni in particolare è stato tolto il limite inferiore al tasso di mutuo. Cosa vuol dire? LPR a 5 anni è il tasso di riferimento per i mutui e le banche cinesi quando concedono un mutuo su questo tasso hanno un limite inferiore sotto il quale non possono scendere e questo limite inferiore è LPR a 5 anni meno 20 basis point quindi massimo possono spingersi a 395 meno 0,2 ovvero 3,75% sotto il quale non possono più andare. Con questa nuova misura hanno tolto questo limite inferiore quindi volendo la banca in teoria può erogare un mutuo con un tasso al 0% se lo ritiene opportuno ovviamente nessuna banca lo farà però almeno non ha più questo limite inferiore se questi tre stimoli sono dal lato domanda e sono un po' diciamo l'antipasto il piatto principale è questa quarta freccia che va a colpire il lato offerta infatti la banca centrale cinese ha messo 300 miliardi di yuan ovvero 40 miliardi di euro ad un tasso agevolato di 1,75% a disposizione degli enti locali e delle aziende statali per l'acquisto delle case invendute. Come funziona esattamente? Cioè quando le aziende statali e gli enti locali prendono in prestito dalle banche queste stesse banche possono chiedere il 60% di questo prestito erogato alla banca centrale cinese al tasso appunto del 1,75%. Quindi questa mossa è stata letta come una sorta di intervento dello stato per diminuire lo stock delle case invendute una specie di quantità tip easing che va ad iniettare capitale in questo settore dando un po' di tregua alle aziende costruttrici che sono tuttora indebitate fino al collo. È un buon inizio anche se i 40 miliardi messo a disposizione non è tanto rispetto alla quantità di case invendute. Gli enti locali di Hanzhou capoluogo della regione Zhejiang sono stati tra i primi ad aver iniziato l'acquisto delle case. Dunque sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta stanno introducendo molte politiche volte a stimolare l'immobiliare e ripristinare un po' la fiducia delle famiglie cinesi. Secondo me queste politiche potrebbero funzionare nel breve termine cioè tra 2-3 anni ma se parliamo del lungo periodo quindi dai 10 anni in su quello che deciderà la sorte del settore immobiliare rimane sempre la domanda offerta ed avendo la popolazione in decrescita questo non lo aiuta affatto. Quindi il settore immobiliare può sì stabilizzarsi ma tornare a crescere o a svilupparsi a livello generale come 5-10 anni fa la vedo un po' improbabile. Secondo me soltanto le città tier 1 come Pechino, Shanghai, Canton e Shenzhen e i capoluoghi delle regioni più ricche cioè quelli della costa orientale potrebbero ritornare a crescere perché comunque sono le città più ambite dove le persone cercano di trasferirsi per avere un lavoro più reddittizio e uno stile di vita migliore. Un po' come qui in Italia dove l'immobiliare va bene nelle città più importanti come Milano e Roma oppure capoluoghi delle regioni come Firenze e Bologna. Un'altra misura che ha fatto parlare molto di sé in questi periodi è stato l'emissione delle obbligazioni speciali ultralunghi. Cos'hanno di particolari queste obbligazioni? Vabbè come avete già intuito dal nome hanno due caratteristiche. Uno è che sono obbligazioni speciali nel senso che sono emesse con lo scopo preciso e in questo caso quello di supportare e stimolare i progetti essenziali per la crescita economica. Parliamo di settori tech, educazione, sanità, energia eccetera eccetera. Ovviamente una fetta andrà anche il sossegno dell'immobiliare. Nel corso della storia solo in tre occasioni sono state emesse queste obbligazioni speciali più quello di questa volta siamo a quattro. La prima volta è stato nel 1998 dopo la crisi finanziaria per ricapitalizzare le banche poi la seconda volta era stato nel 2007 per la creazione del fondo sovrano e la terza volta è stato nel 2020 per il covid. E la somma totale emessa questa volta sarà un trillion yuan cioè 140 miliardi di dollari divisi in 22 tranche che verranno collocate tra il mese di maggio e novembre di quest'anno. La seconda caratteristica è invece il fatto che sono ultralunghi. Infatti parliamo di tre scadenze da 20 anni, da 30 anni e da 50 anni. Il pagamento delle cedole è semestrale e il rendimento verrà deciso ogni volta poco prima del collocamento. Queste obbligazioni speciali ultralunghi sono destinate per lo più agli istituzionali ma ci sono banche che lo hanno offerto anche al retail. Il 17 maggio è avvenuto il primo collocamento di 40 miliardi di yuan ovvero circa 5 miliardi di dollari con scadenza a 30 anni e il rendimento è stato fissato a 2,57%. poi cinque giorni dopo sono stati quotati anche sui brokers quindi dando la possibilità anche agli investitori retail di acquistarli. E qui vi racconto questo episodio molto divertente che è accaduto durante il primo giorno di vendita a retail sul mercato secondario e che è andato praticamente su tutti i canali degli influencer di finanza cinese. All'apertura della borsa queste obbligazioni che avevano un face value di 100 yen cioè 13 euro circa sono schizzati a 113 yen cioè un più 13% a questo punto il trading è stato fermato perché quando sali più del 10% c'è questo blocco automatico poi verso le 10 le contrattazioni sono state riaperte e di nuovo il prezzo è schizzato a 125 yen cioè è salito del più 25% e di nuovo il trading viene bloccato e riaperto solo alle 3 e 27 cioè tre minuti prima della chiusura della borsa e in quei tre minuti il prezzo è sceso fino a 101 yen. Mi chiedo come fa il prezzo ad essere salito così tanto cioè va bene che ci sono tante richieste ma per un prezzo delle obbligazioni salire al 25% è tantissimo ma soprattutto c'è chi è che ha acquistato a 125 yen queste obbligazioni sicuramente i retail e non istituzionali cioè perché acquistarlo a 125 yen vuol dire che ti sei mangiato il rendimento di 10 anni c'è un terzo del rendimento è andato così pazzesco il timing scelto per le emissioni di queste obbligazioni devo dire che è stato molto azzeccato infatti è un periodo dove i tassi in cina sono molto bassi assicurarsi un prestito con questi tassi bassi per un lunghissimo periodo ed investirli in progetti importanti per la crescita della sua economia quasi sicuramente avrà un rendimento più alto del 2,57% che il tasso annuale che pagano queste obbligazioni cioè ricordiamoci che il gdp cinese cresce del 5% questo debito anche se considerato poco rapportato al suo pil di 17 trillion di dollari è pur sempre un debito il debito pubblico totale cinese pubblico e quindi non quello aggregato è intorno al 70 80% del suo pil quindi non è troppo alto è per questo che può permettersi di collocare ulteriori debiti il fatto che queste obbligazioni hanno la scadenza lunga va a diminuire un po la pressione che ha la cina in futuro di ripagare questi debiti perché si parla comunque di 20 anni di 30 anni di 50 anni e questo è ottimo anche l'altro domanda è un momento veramente buono perché gli investitori cinesi oggi come oggi non hanno molti altri asset in cui investire l'immobiliare sta andando male il mercato azionale è giù anche se negli ultimi periodi ha fatto un imbalzo ma non si è ancora ripreso del tutto possono investire in oro sì però ai massimi storici e altro altri asset non ce ne sono cioè volendo possono lasciare i soldi in banca ma con i tassi che stanno scendendo praticamente i conti non danno più niente rispetto ai cinque anni fa dove i tassi sul conto deposito arrivano tranquillamente anche al 3 a 4 per cento mentre oggi a malapena se ti va bene arriva al 2 per cento che sarà sicuramente destinato a scendere ancora quindi un'obbligazione che ti paga il 2,57 per cento per così tanto tempo agli occhi degli investitori cinesi oggi non è assolutamente male per questo che il primo collocamento è andato bene i prezzi sono schizzati così in alto fino a 125 yen ovviamente sperando che nessuno lo abbia preso a quel prezzo perché vuol dire che si è mangiato un terzo del rendimento dunque con tutti questi stimoli che la cina sta tirando fuori sicuramente questo va ad aumentare la probabilità che l'economia possa riprendere a crescere ad un ritmo più consistente che i consumatori possano riacquistare un po il sentiment un po la fiducia e il mercato finanziario possa tornare in territorio bull però c'è ancora da tenere in mente un fattore molto fondamentale che è il fattore geopolitico che ha un'influenza non indifferente quindi staremo a vedere ragazzi bene direi che per questo video è tutto fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste misure che sono state introdotte dal governo cinese per stimolare l'economia in particolare il settore immobiliare scrivetemi qui sotto nei commenti se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like e iscrivetevi al mio canale per supportarmi e noi ragazzi ci vediamo alla prossima bye bye